Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Steven. Ciao. Allora per me è molto emozionante perché tu sei un miscuglio di due figure che un po' mi hanno cresciuto professionalmente in una fase della mia vita che ho raccontato nella puntata della mia storia. I tuoi genitori, quindi proprietari del number one, per me è stato un locale storico. Non nella penultima fase della vita dove gestivo i personaggi, lì ho fatto pochissimo, ma in quella precedente dove vendevo cubista e animazione. E per me era importante aver conquistato quel locale, portare le ragazze in quel locale. Vedevo tuo padre, quindi ci ho parlato, boh non lo so, 200 volte, 300 volte, quindi l'ho visto per tanto tempo, quell'uomo che a prescindere dall'età, era sempre lì, era sempre sul pezzo, con uno sguardo, tutti sugli attenti, ma sapeva sorridere. E ieri sera, prima di fare questa intervista, ho smanettato un po' e vedevo tuo padre che, com'è che si chiamano i cannoni che sparano CO2? Sì, sì, in una serata hardcore, ma recentissima, e mi ha emozionato. Mi ha emozionato vederlo, poi ho visto l'ultimo video, tuo papà è venuto a mancare, ma ce lo racconterei dopo, poco fa, nel senso al febbraio di quest'anno. Ho visto un video, penso in un contesto di casa, dove lui aveva il cappello brizzolato, mai visto col cappello brizzolato, per me lui, cappello nero. Pinta, ma... Sì, 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 baffo nero. E quindi ho visto quell'uomo un po' più, come dire, sempre con la sua energia della serie, non sbagliare che ti spacco il culo, però tendenzialmente un po' più a riposo. E quindi ho pensato a te, perché tu hai, si è creata una tua brand identity, lo racconterai dopo sui social, ma è una cosa meravigliosa di te, e che sei molto grato ai suoi insegnamenti e soprattutto lui è al centro di tutti i tuoi discorsi, quando fai dei contenuti in ufficio, c'hai la sua foto dietro storica, me la ricordo pure io quella foto lì, hai fatto una statua, insomma. Dopo ci entriamo, però quando ti ho visto oggi per la prima volta dal vivo, e ho visto un miscuglio tra Mario e Tiziano, hai detto, mamma mia! Perché io ti avevo incrociato che tu eri un bambino piccolo, e io conoscevo tuo fratellastro, Cristian, perché era il figlio, diciamo, della famiglia, presente matrimonio operativo, e quindi tu, con 25 anni in meno, penso di lui, hai preso l'eredine, hai rivoluzionato tutto, ma non spoileriamo. Ci fermiamo qua, sono super contento, perché io sono una persona che ho subito molto mio padre, ma oggi lo amo moltissimo, perché l'ho perdonato, mentre tu invece non hai mai avuto bisogno di perdonarlo, perché l'hai amato anche quando lui era in vita, e quindi per me il rapporto padre-figlio mi tocca, mi emoziona, mi commuove, mi fa riflettere, e quindi è uno degli ingredienti che ci ha portati qui. Sei un giovane che sicuramente verrà ditato come figlio di papà, e ce lo racconterai dopo. E mi piace perché tu sei sempre sorridente, sei super umile, sei una persona che ha delle grandi possibilità, ma non le fai pesare, e quindi è un buon esempio. Ora partiamo dall'inizio, da quando tu sei nato, in che anno sei nato, e vai, tu guida il flow e io ti vengo dietro. Grazie per tutta l'introduzione, piacere essere qua, ti dico, è una delle mie prime volte in generale, perché non ho mai fatto, diciamo, interviste così lunghe, diciamo, podcast quasi così approfonditi, quindi non ho mai fatto nulla, ma perché di base sono molto timido, diciamo, che è una cosa che magari non si direbbe a primo impatto, magari per come mi vesto, per come faccio sui social, però di base lo sono molto, e sono anche molto insicuro, diciamo, quindi è un po' una maschera che mi sono sempre messo. Il social sai, lo sappiamo benissimo, siamo noi con il nostro telefonino, comunicare è facilissimo. Quando già sono in contesti, con persone che mi guardano, come può essere un tipo settimana scorsa, mi hanno chiamato a fare un discorso per la regione Lombardia, c'erano 200 persone davanti, 2 miliardi, se penso che TikTok il video lo vede un milione di cristiani... E però non ce li hai davanti. Esatto, ho fatto molta fatica a sciogliermi, capito? Ma questo è sempre stato il mio terreno d'Achille, la gestione dell'ansia, l'issicurezza, già quando per esempio andavo a fare le partite di calcio, e che ero anche bravo, perché il mister è guai con me, ero un trequartista, prima di ogni partita mi veniva la nausea, e a volte proprio anche... E li mettevi, ok. Perché non riuscivo a gestire questa ansia di prestazione, quindi questo è un po' una parentesi. E hai trovato poi degli strumenti che ti potessero aiutare? Sicuramente ad oggi sono migliorato molto, anche per via dell'età, un po' dell'esperienza, però ancora oggi quando ho determinati eventi, ma semplicemente anche un evento grosso al number one, che non dipende da me perché non sono io l'artista, prima della serata sono in un'ansia pazzesca, che mi schiudo lo stomaco, non mangio, perché voglio che vada tutto bene, voglio che ci siano le persone che mi auguro arrivino. Io penso che un buon modo, soprattutto in età adulta, anche io ero come te. Io la prima volta che parlo in pubblico è allo IAB nel 2014, perché nella mia vita precedente, quando gestivo personaggi, erano loro i protagonisti, di certo non io, e io ero ben felice di essere defilato. Quando ho fatto lo IAB per la prima volta, penso di aver ripetuto quel discorso a 20 persone diverse, prima di quel giorno mi sono bevuto quattro bottiglie d'acqua e non avevo saliva quando sono salito sul palco, ma sai qual è la differenza? È l'allenamento. Più lo fai e più diventa normale e più quella cosa la fai come berti un bicchiere d'acqua. Quindi, se vuoi, facciamo un podcast tutti i giorni così ti sciogli e poi hai il tuo flow. Allora, ripartiamo. Quando nasci? 9 novembre 1992, Scorpione, quindi già lì un carattere un po' particolare. Guarda, partendo proprio dalle basi della mia infanzia, ovviamente sono sempre stato un ragazzo fortunato, non mi è mai mancato nulla, quindi parenti che mi volevano bene. Figlio unico. Dalla parte di mia madre, sono figlio unico di Mario Tiziana, mentre Mario prima aveva un'altra moglie con altri due figli, mio fratellasto Cristian e la mia sorellasta Sabrina, con la quale non ho mai avuto rapporti perché all'epoca decise di stare con la madre nel divorzio, mise in cattiva luce il padre, infatti Mario, mio padre, non riuscì mai più a riconquistare il rapporto con la figlia. Mentre col fratello, con Cristian, sì. Tanto è vero che appunto lavorò... Hanno lavorato insieme per tantissimi anni. Tantissimi anni, vent'anni. E quindi sì, sono figlio unico. Sono sempre stato comunque molto fortunato sotto tutti i punti di vista, non posso lamentarmi. Però ho sempre subito un pochettino questa cosa di avere un padre anziano. Questa anche da piccolissimo, già all'elementare, quindi in quinta elementare quando cominciavo a capire qualcosa. Quanti anni aveva tuo papà quando sei nato? 52-53 anni quando sono nato. Quindi già quando andavo all'elementare andava sulla sessantina, no? E quindi era quasi il nonno degli altri ragazzini di 7-8 anni. E mi dicevano, arriva tutto il nonno a prenderti, ma non che io mi offendessi perché tanto non mi interessa. Ma proprio perché capivo dentro di me che l'età era molto avanzata e di conseguenza avevo paura di non poter imparare nulla, godermelo. Cioè mettiamola così, sai, il terrore di ogni figlio è di perdere i genitori, ovviamente. E quindi l'ho sempre vissuta terribilmente male e questo mi ha anche influenzato molto sotto il punto di vista dell'ansia, come dicevo prima. Perché avevo sempre con la paura di perderlo. Io quando l'ho perso poi quest'anno è quasi come se questo film l'avessi vissuto come se fossi pronto. Migliardi di volte da quando avevo 7-8 anni, capito? Quasi come se fossi pronto. Poi vabbè, la sua malattia è stata molto degenerativa perché il cancro non l'ha ucciso in un giorno, l'ha ucciso in due anni di cure che l'aveva già colpito all'età di 57 anni, appunto quando era un ragazzino. E l'avevano totalmente curato e hanno detto guardi signor Mario, se lei non smette di fumare la situazione qui peggiorerà solo perché due pacchetti di sigarette al giorno e nel discoteco anche tre perché poi di notte uno ha detto l'altro. Lui non ha mai smesso di fumare anche in quel periodo. Dio vuole che comunque per 30 anni non gli è mai più uscito nulla però sai che il cancro comunque se lo prendi una volta è facile che poi ti rincorre negli anni. Gli è ritornato a 77 anni come dicevi tu era un uomo molto forte sempre ottimista, positivo anche lui proprio un guerriero e invece vederlo così debole nell'ultimo periodo mi ha proprio devastato. Mi ha devastato. Quindi avevi comunque sempre questa ansia che ti ha creato insicurezza nel dire mio papà cioè... Oggi c'è, domani bu. Ok. L'ho vissuto malissimo. Non hai mai parlato con nessuno mentre lo vivevi con lui stesso o con tua mamma non hai mai detto una cosa così? Mia mamma sì, lo sapeva lo sapeva, lo vedeva E che risposte ti dava? Ma Stephen è la vita mi diceva sempre questo mi ricordo papà sta bene cioè io dicevo ma c'ha 68 anni papà sta bene quindi tranquillo cioè stai con lui fai quello che devi fare non pensare al dopo quindi mia mamma mi rassicurava poi mia mamma vabbè essendo figlio unico mi voleva tenere sotto proprio una campana lei non avrebbe mai voluto che io facessi questo lavoro infatti già all'epoca mi ha fatto fare un corso a Milano di finanza appena finito il diploma subito mi ha mandato qui un anno a fare un corso di broker perché lei voleva che io insomma imparassi a gestire il mio capitale il mio patrimonio mi ricordo sempre mi diceva tu devi avere il tuo computer gestire il tuo capitale devi essere a New York a Miami questo è il lavoro che io spero che tu faccia no? non la discoteca le donne, l'alcol quindi voleva tenermi in questa bolla io l'ho fatto per un periodo infatti l'ho secondata sono andato a fare questo corso subito a 18 anni però immagino che tu parli ti portava già la bambina in discoteca io sei anni ero già lì quindi inconsciamente un po' dentro di me c'era questo sangue poi mia mamma ha aperto un ristorante a Brescia in quegli anni lì dodici anni fa e mi ha trascinato lì al ristorante e ho fatto quattro anni lì torniamo un secondo indietro infanzia io ho letto penso da qualche parte che tuo papà quando eri piccolo tipo avevi 8-9 anni ti era venuto a prendere a scuola con la Ferrari mio padre fece la stessa cosa lui aveva una Rolls Royce e per me è stata una condanna quel giorno perché da quel giorno mi davano due appellativi ricco in Francia e rital che è un modo dispregiativo di dire italiano e non nel tuo paese e quindi per me la ricchezza da ragazzo era un difetto era un punto di vergogna e quindi dove sei andato in vacanza e magari andavamo a Monte Carlo piuttosto che io dovevo dire mentivo cioè dicevo boh non lo so qua vicino rispetto a Parigi proprio per non essere additato e marginato e visto come uno diverso dove oggi la gente ostenta il contrario però io ho visto malissimo questa cosa tu come l'hai vissuta? guarda hai fatto una sintesi che è perfetta anche nel mio caso e quel episodio mi ricordo come fosse proprio l'altro giorno ma lui mio padre non è mai stato uno che ostentava zero per esempio cioè andava in giro in pigiama solo al locale lui interessava essere ma proprio per una cosa sua di insomma pulizia voleva sempre la sua giacca la cravatta non potevi toglierla ma era solo una sua mentalità antica ma in giro lui lo vedevi magari veramente al negozio col pigiama con le scarpe rotte non gli ne fregava niente di queste cose quindi per lui venire a prendermi col Ferrari che era la sua macchina davanti all'ingresso proprio bloccato l'ingresso sotto gli occhi degli altri ma lui sembrava che è arrivato sai quello che vuole fare di più no? e invece lui fa non sapevo neanche dove andare perché mio padre non veniva mai a prendermi solo mia mamma quel giorno mia mamma non poteva ha mandato mio padre che manco sapeva dove era la scuola e si è messo si è messo davanti all'ingresso proprio fuori con i baffi a guardarmi così mi ricordo che mi aspettava mi suonava il clacson che io se avessi potuto li mi sotterravo tutti i bambini Ferrari rossa la guardavano tutti e quindi non mi sono arrabbiato tanto con lui perché io non ce la facevo a guardarmi con mio padre non so perché avevo questa cosa qua che lo vedevo tenero già anziano quindi non uscivo che papà era da un punto di vista affettivo cioè ti accarezzava ti coccolava ti diceva che ti amava perché io l'ho visto sempre come un uomo tutto d'un pezzo loro nove fratelli giusto? il settimo dei nove che poi dopo ti chiederò o lo racconterei tu di atribe con la famiglia perché quando le cose sono andate bene per lui ha cominciato a dare una gran mano e poi quando questa mano l'ha tolta dopo dieci anni gli si è girato tutto contro però me lo racconti magari tu che papà era con te? guarda papà ha proprio vecchio stampo quindi mi viene a dire prendiamo esempio dei nostri nonni più che dei nostri genitori quindi non hanno magari quel modo di dirti ti voglio bene figlio mio ma ti dico da un lato lo preferivo perché anch'io sono così quindi mi avrebbe quasi creato un imbarazzo oggi quando mia mamma mi vuole venire a dare un bacio solo quasi mi rigidisco non sono abituato quindi lui lo faceva a modo mio cioè uguale eravamo con un gesto con una parola ma non dolce una parola giusta tipo bravo per me bravo era già mio papà mi ha detto che sono stato bravo un miracolo capito quindi lo faceva a modo suo magari ti faceva il regalo magari non ti faceva mancare nulla magari si metteva lì al tavolo ti faceva un discorso suo prendendola molto larga per esempio lui ecco era uno che i complimenti non li faceva direttamente mai però a tutti gli altri poi mi venivano a dire ah tuo papà mi ha detto che sei bravo da sette in giro che in dialetto ovviamente il bresciano mi lo dava con tutti i fornitori ma non riusciva a farlo direttamente a me direttamente no i discorsi che più mi sono piaciuti mi sembravano delle fiabe non so spiegarti racconti d'altri tempi comunque un uomo nato nel 1941 quindi c'era la guerra e tutto quando lo ascoltavi era proprio un piacere quindi tutti i suoi racconti quelli della sua infanzia dei tutti episodi che veramente gli hanno cambiato la vita mi hanno veramente dato una motivazione una forza che è indescrivibile cioè sento che dentro di me c'è proprio una forza che deriva dalla sua storia come se io dovessi proprio per missione portare avanti un qualcosa che lui ha creato dalla fatica cioè capito cioè mio figlio se ormai il giorno ci sarà non potrò mai dargli questa cosa perché io sono nato veramente già fortunato poi se un bravo ragazzo porto avanti quello è un discorso che non è scontato ma lui proprio dalla povertà dalla fame io mi sento più in dovere di farlo non posso sputare su quello che lui mi ha lasciato mio padre è settimo di nove fratelli nato nel 1941 in massima povertà da una famiglia contadina rispetto agli altri fratelli subito aveva dentro di sé questa diciamo devozione o qualcosa del lavoro e non lavoro inteso come magari la manovalanza che già all'epoca tutti lo facevano contadino muratore lui voleva ambire a qualcosa in più e mi raccontava sempre appunto che appena avuto una piccola opportunità di prendersi una bicicletta che all'epoca era già un successo all'età di otto anni comprò questa bicicletta e iniziò a vendere delle brioche ma com'è questo? perché lui non aveva neanche i soldi per comprare le brioche per poi rivenderle quindi prima di fare questo step si era accapparrato tutta la fiducia diciamo di bravo ragazzo nei vari pasticceri piuttosto che che si fidavano di Mario di questo ragazzino quindi gli davano le brioche in conto vendita lui poi partiva con le brioche si faceva 30-40 chilometri tornava la sera saldava il debito delle brioche e si teneva alla differenza questo l'ha fatto per diversi anni lo sapevano i suoi? e no non lo diceva perché non erano ben viste queste cose all'epoca mi raccontava che comunque spesso venivano anche picchiati senza grossi motivi c'è il padre era molto manesco e era difficilissimo mi fanno potevi dire ah papà voglio andare a fare business di vendere le brioche cioè a 8 anni faceva sta roba e non lo diceva neanche no ma mi parlava mi nascondeva le sotterrava le monetine cioè la roba irrisoria appena avuto la possibilità di fare lo step successivo dalla bicicletta è passato all'ape quella con il cabinato mi raccontava la pecara sì e la cabinato quindi permetteva di fare più volumi più volumi da quella poi è passato un camioncino tutto a step ovviamente e poi dal camioncino risparmiando sempre sempre risparmiando ovviamente mi fa più salivo più mi indebitavo anche perché è perché dovevo anticipare sempre più soldi sì mi indebitavo mi raccontava pacchi di cambiali non dormivo la notte perché non volevo avere debiti sempre nel mondo della pasticceria pasticceria esattamente poi mi raccontò che un giorno aveva appunto 15-16 anni c'era una festa in paese però era pagamento non si poteva accedere siccome lui i soldi non aveva da buttare per divertimento voleva però vederla questa festa e c'era un enorme muro di 6 metri 7 metri e lui cosa fece prende una scala va su guarda la festa e prende questa ispirazione della musica la gente che ballava balli ovviamente dell'epoca quindi magari ballo liscio e viene questa ispirazione non lo so preso dalla sfortuna comunque la scala cade si spacca quattro denti e il setto nasale torna a casa pieno di sang con il setto nasale rotto e quattro denti mancanti sua palo picchia perché dice cosa hai fatto dove sei andato a cacciarti però da quell'episodio lui dice mi si è aperta una visione che era il mondo della musica e del divertimento quindi decise di fare poi lo switch dalla pasticceria che alla fine è semplicemente stato uno strumento un mezzo per partire ma non era la sua passione a comprare a 21 anni il terreno della sua prima discoteca sempre in provincia di Brescia orzi nuovi che si chiamava poi la discoteca Calua questo con tutti i risparmi della pasticceria tutti investiti più alti debiti altri pacchi di cambiare mi diceva perché non bastavano quelli che aveva lui però all'epoca era anche molto più facile avere credito dalle banche in quegli anni comunque ti gli davano i soldi e questo locale qua fece molto successo anche perché era la prima discoteca della zona creata con quel concetto che anni? secondo me visto che il number one poi viene 15 anni dopo nel 77, 78 quindi sì 63, 64 tu ti ricordi che cosa fa di speciale per far sì che funzioni quel locale? guarda parlo sempre per racconti chiaramente ovviamente perché qualcosa di diverso lo fece perché cominciò a introdurre anche un genere un po' più chiamiamolo discotecaro quindi un po' più dense perché all'epoca invece come dicevo prima andava più di moda la balera quindi anche per i giovani a introdurre qualcosa di più dinamico e portò grandissimi risultati perché lui mi dice guarda quel locale lì mi ha fatto veramente una fortuna perché in tre anni l'avevo ripagato tutto e l'ho venduto con la differenza ho fatto un 100% dell'investimento ma volevo qualcosa di più grosso e più in città si guarda in giro e compra due terreni uno a Brescia Centro e sarà poi destinato a costruire un locale che ancora oggi c'è che però non è più nostro che si chiama Paradiso e il terreno in Francia corta in parte appunto i Berlucchi eccetera eccetera e nascerà poi lì il Namberino che era la prima struttura piccolina e di seguito poi il Number One con le varie sale portandoci appunto verso quel periodo nel 74 quindi Namberino non si pronunciava allora Number One ma Namberone cioè nel senso o era Namberone no era Namberone ok poi bocchi sa mio papà con che concept abbia visto che non sapeva parlare l'inglese tante volte a me il mio nome Steven lo scriva con la I cioè che il nome l'ha scelto lui perché mia mamma voleva chiammi Mario come tuo papà uguale sembra la tradizione ok il mio papà la guarda dice ma che nome di merda è Mario cioè il tuo no no non mi piace chiamolo Steven ma non so perché cioè mio papà che in inglese quindi non so Number One con quale dialettica l'abbia voluto intendere il Paradiso paradossalmente è partito prima dal Number One perché i lavori finirono prima quindi a qualche anno in più di storia rispetto al Number e anche lì un successone riporta ancora quella cosa di mixtra liscio quello che era poi diventato la sala 1 un po' almeno quella che avevo visto io al Number One però dove anche il giovane poteva venersi a divertire quindi era una roba un po' più pop più aperta esatto con un grandissimo estivo perché mio papà aveva questo l'edizione gli piaceva anche sulle nostre case che abbiamo sempre avuto il giardino per lui era il cuore della casa perché lui viveva in giardino tornava dentro in casa solo per mangiare e dormire era sul trattore per l'erba le siepi quindi anche i suoi locali rispecchiavano questa sua passione anche il Number One enorme fuori come tu pensavi una città nella città 77.000 metri quadrati in totale Niente Paradiso parte successone va benissimo all'epoca ovviamente mia madre non c'era ma c'era l'ex moglie con la famiglia che abbiamo citato prima che lavoravano sì lavoravano tutti anche la figlia sì figlia figlio e moglie mai con i suoi fratelli sì anche ti spiego perché ti faccio la domanda un giorno non so se me l'ha raccontato tuo padre però ero al Number One quando me l'hanno raccontato mi hanno detto che il fratello aveva il numberino e che lui con la ruspa gli butta giù il locale giusto è vero? giusto ok giusto perché perché il numberino l'ha creato mio padre diciamo che facendo un piccolo passo indietro tutti i fratelli l'hanno poi un po' risucchiato perché è l'unico dei nove che ha fatto un qualcosa in più quindi una volta si usava molto aiutare tutti poi la madre di mio padre in punto di morte mi raccontò mio padre gli disse ti raccomando i tuoi fratelli quindi aveva questo cruccio in testa doveva aiutarli per forza e l'ha fatto per 12 13 14 anni però ecco nove famiglie con figli annessi mogli cioè non sei i berlusconi cioè comunque manteneli tutti in un certo stile di vita non puoi non lavorava nessuno cioè neanche non lavoravano lavoravano a uno gli ha aperto una pasticceria a un altro gli ha aperto un altro tipo un salone che gli piaceva del mobile cioè insomma gli aveva creato una propria identità a tutti però poi non avevano la vena imprenditoriale quindi alla fine si ritrovava lui a dover sempre andare a foraggiare le aziende che non erano le sue e niente poi decise di fare questo locale a Namberino lui 100% suo e fece il bullying quindi al piano terra con la paninoteca e sopra un preserata un po' come si usa adesso però in quegli anni non era molto usanza quindi diceva io creo questa situazione prima e poi dopo ti porto al number one era perfetto così un preserata parcheggiavi proprio all'interno del locale perché era dentro nella stessa area era attaccato quindi a piedi poi passavi di là però poi il lavoro con il number one quando inaugurato era esploso proprio numeri pazzeschi l'ha costruito a rate sì a rate piano piano sì sì sala 1, sala 2 poi sala 3, sala 4 poi sala 5, sala 6 poi 7 cioè di tutto però sì abbastanza step però non tantissimo è stato veloce ce l'avrà fatto in 5 anni sì forse neanche 3-4 anni era finito ok e però gli portava via molto tempo soprattutto gli incassi che faceva di qua erano risorgli rispetto a quelli del Namberino quindi decise di dire guarda Franco che era suo fratello prendi le mani tu il Namberino fai tu e sembrava tutto a posto per un paio di anni sono antivanti bene poi il fratello forse ingelosito del fatto che Mario faceva 10 lui faceva 1 a livello di guadagni decise di mettere una siepe che divideva il Namberino il number one e si mise a fare discoteca ha tolto il bullying ha fatto discoteca cioè ha fatto concorrenza in casa a 100 metri si chiamava Namberino ma era diventata discoteca quindi il concept non era più quello che chiudevi alle 1 e mezza ma chiudeva alle 4 era una discoteca quindi si è messo a fare la concorrenza al suo fratello mio papà non ci ha più visto perché gli ha detto ti ho regalato tutto ti ho messo qua a costo zero e tu mi fai la concorrenza questa scena che mio papà mi raccontò lo prende per la camicia lo strattona il fratello gli sputa sulla giacca a mio papà da quel giorno il rapporto con Franco finisce da quello sputo mio papà distrugge il posto e dice questa è roba mia e torna ad essere mia con la forza se la riprende facciamo che non esisterà mai più perché la fortuna che comunque nonostante la gestiva il fratello l'ha venduto questa struttura ormai non la voglio più neanche vedere quindi mi ha rovinato il rapporto l'ha venduta a un romano Cesaroni si chiamava e nel giro di 4 anni è fallita l'attività e ancora oggi se vieni al number one nel parcheggio vedi questa struttura ma è abbandonata che fa parte sempre però del vostro complesso la famosa siepe che è rimasta quindi è diviso e come reagisce nel business tuo papà rispetto a quella cosa ma mio papà io non so come abbia potuto fare a rialzarsi così tante volte da tutte queste delusioni perché non ha avuto uno fratello su otto che lo abbia rispettato e amato non ha avuto l'ex moglie che l'ha amato e gli ha voluto bene veramente e l'ha rispettato perché gli ha mancato di rispetto tutti quegli anni visto che comunque poi sono state fuori insomma delle cose bastante delicate che lavorava in cassa rubava gli ingressi insomma cioè rubavi in casa tua cioè tuo marito il proprietario tu rubi che senso ha vabbè i figli stessi purtroppo mi dispiace dirlo ma la sorella all'epoca era quasi l'accomplice della madre quindi sapeva cosa stava facendo e gli dava accordo alla madre tanto è vero che come ho detto prima mio papà già da 30 anni non parlava più con la figlia più vista più sentita Cristian è stato un po' un tallone d'Achille per mio padre tu l'hai conosciuto ha lavorato 25 anni insieme diciamo che ha visto un po' male mio fratello anche il rapporto con Mario perché rispetto a me Mario era un uomo in carriera fortissimo all'epoca quando mio fratello aveva la mia età di oggi era impossibile prendere decisioni era impossibile dire la propria perché Mario era ti dico quello che io avvertivo di tuo fratellastro io quando andavo al number one Mario era il capo assoluto e Cristian assecondava e non si permetteva di dire mai la sua quindi era molto passivo e quindi questa cosa che tu dici probabilmente tuo padre con questa personalità incredibile e anche ingombrante se vuoi faceva paura incuteva timore agli altri magari senza volerlo però era così e vedevo Cristian che magari era una persona estremamente sicura ma in quel contesto con tuo papà faceva proprio fatica era proprio chiuso in uno sgabuzzino nel senso come perimetro d'azione esattamente ma mio papà ci lamentava che mio fratello non prendeva mai iniziativa che non capisce niente però magari d'altro canto gli lasciavano anche molto spazio quando sono arrivato io quindi dieci anni fa il mio referente non era Mario ma era Cristian ovviamente ero pure io figlio di Mario però per rispetto 25 anni che sei qua dimmi tu cosa ti serve Cristian cosa posso fare allora arrivava il fornitore scaricavo col bancale caricavo i bar facevo queste cose qua zero potere decisionale però sai nel giro di due annetti quindi a 23 anni ti dico ma per proprio una cosa naturale mio padre mi ascoltava sempre di più perché comunque sai Cristian cominciava ad avere 46, 47 anni 48 anni io invece 23, 24 maturavo ero al passo coi tempi i social gli artisti del momento mio padre fuori dal giro mio fratello fuori dal giro quindi tu in casa dicevi ma papà ma perché non fai questo ma perché non guardi questo cioè mettevi sul tavolo dei ragionamenti lui avrà cominciato a pensare questo ragazzo ha i colpi esatto questo è stato mentre Cristian non si esponeva in tal senso cioè magari si lamentava non nel senso negativo però soffriva quella cosa ma non andava mai da tuo padre direttamente a dirglielo mai poi ti ripeto magari fossi nato in quei tempi anche io sarei un Cristian oggi non sarei un stime può essere perché non c'era proprio modo come dicevi tu di poter entrare in certe sinergie poi io ho avuto la fortuna da virgolette di avere la fiducia massima mio padre mi disse guarda fai così fai quello che meglio credi ok non fammi spendere troppo diceva così però vedi tu vedi tu vuol dire fai la direzione artistica fai la direzione artistica comando io ma tu fai la direzione artistica anche il cassetto è sacro e benedetto non potevo toccarlo diceva sempre cassetto alessante benedetto ti dico guarda mio padre sì è sempre uno che ha lavorato per i soldi chiaramente però non venale manco sapeva tante volte perché faceva Cristian la parte contabile quindi mio papà manco sapeva i conti vedeva che c'era gente come le andaccia bene o male bene se avanzava qualcosa era contento ma lo faceva per avere il suo locale attivo quindi tante volte mio papà era a priori contento mi ricordo Tivoki portò 7200 persone è il primo nome importante che hai pianificato tu? no il primo Bob Sinclair che anno? 2014 inizio 14 tu avevi 22 anni sì infatti avevo appena iniziato a fare questa cosa andò bene ma non benissimo ti dico la verità a livello di incasso vabbè non andò male perché comunque alziamo il biglietto giustamente per un'icona così come Bob Sinclair la gente ha pagato volentieri però forse andava a costruire anche la cultura sì esattamente non il one shot la gente doveva sapere che quel locale avrebbe continuato in questo genere di programmazione giustamente perché non ha pagato il fatto che non c'era una credibilità intorno alla struttura è come se un locale qua a Milano facesse tutti i giorni orchestra, ballo liscio e ti trovi Bob Sinclair non ha un pubblico uno zoccolo duro che so che lì è figo il posto vado anche perché l'artista è una cosa in più cosa che invece oggi paga molto il fatto che i ragazzini conoscono la struttura e a priori io i miei 1500-2000 li ho cioè ormai quando c'è un nome in auge si aspettano che tu lo pianifichi sì quindi è cambiato si è sovvertita questa cosa sì e quindi niente partiamo con Bob Sinclair mio papà comunque era molto contento perché ha visto molti giovani e per lui era un segnale fondamentale quello perché in quegli anni forse è rivenuto avevi visto la sala 1 che è la storica trasformata un po' in balera no? cioè era diventato tutto ballo liscio anziani quindi poco incasso avevo le cubiste c'erano giovani c'era proprio i genitori da una parte e i figli dall'altra esattamente era un concetto di multisala invece adesso è molto più verticale e settoriale io oggi mi trovo a fare un genere che è la trap sono verticalissimo in quello quando provo a fare qualcosa di un po' più alternativo un po' più pop già i numeri quindi non fai né EDM né pop stai molto nella scena hip hop molto molto hip hop adesso sì però sai in quegli anni lì invece dopo Bob Sinclair scoppiò la moda della musica elettronica quindi EDM no? ed è lì poi che mi avvicino anche a Alberto Gobbi che insomma è una figura che in quegli anni mi ha aiutato tanto dalla sua agenzia Alberto Gobbi per chi non lo sa è fondamentalmente un booker cioè un manager di DJ nazionale e internazionale esatto che all'epoca aveva fatto anche lui un grande lavoro perché si era riuscito ad accaparrare un sacco di esclusive internazionali quindi questi personaggi enormi del mondo della musica elettronica tutti in Italia avevano l'esclusiva con Alberto Gobbi agency quindi tu devi chiamare Alberto per ogni cosa l'esclusiva di rivendita non di management quindi lui era l'agenzia che poteva rivendere in Italia i live di tutti quei personaggi di DJ set e quindi mi trovo sempre a dover chiamare Gobbi che era una figura che amare un po' andava stretta perché questo calma costa troppo ogni volta che devo chiamare uno dovevo dargli la percentuale ah in quel senso non la capiva poi già il mondo di DJ in quegli anni cominciava a lievitare il mondo economico cioè non erano più i cachet di 1200 ma a 50 almeno e quindi magari per tuo padre era quello che era caro ma invece era il mercato che era così era impensabile guarda due anni dopo la prima data di Steve Vochi 2016 bonifico anticipato di 70.000 dollari mio papà non ci credeva 70.000 quanto suona 5 giorni no sono 45 minuti un'ora era per lui inimmaginabile spendere 70.000 dollari per un DJ set proprio una cosa assurda anche perché tuo padre era l'uomo che faceva Greggio e Iacchetti che era una striscia lui li portava il number quindi lui era abituato proprio a un'altra filosofia di artisti e uno che per X faceva Y e si mi è chiaro all'equazione mentale che lui faceva però poi giustamente i tempi sono cambiati sono cambiati anche perché lui Luca faceva in quegli anni 90 di sabato di base le 14.000 13.000 12.000 persone paganti 10.000 lire senza ospiti c'era proprio diventato un luogo di ritrovo quindi per lui investire 70 per una serata era assurdo visto che spendeva zero prima parliamo degli anni di tuo papà un secondo ti faccio una domanda perché adesso stiamo già entrando nella tua gestione quindi stiamo andando dritti lì l'arcore quindi il genere musicale l'arcore io abitavo a Parigi sono venuto in Italia nel 94 17 anni e mezzo non sapevo neanche cosa fosse l'arcore e in Italia il sinonimo di arcore era number one sala 2 l'anchina house come DJ intendo e così via sala 2 ma 10-15.000 persone i primi after le piramidi umane quindi uno sopra l'altro e faceva degli incassi pazzeschi questo ovviamente comportava dei rischi perché chiaramente può scappare qualcosa di esatto di molto grave lo so mi ricordo la chiusura mi ricordo le sue interviste al telegiornale mi ricordo il suo dispiacere perché poi lui cavolo era lì faceva anche lui l'uomo della sicurezza ma non per picchiare qualcuno ma proprio per far andare il tuo bene dicendo ragazzi divertitevi bravo lui quando esageravano prendeva il microfono spegneva la musica ragazzi basta cioè era proprio lui era un padre lì dentro cioè lui non è mai stato il gestore che noi immaginiamo sai classico donne alcol cioè lui coca cola e sigaretta punto zero alcol zero donne cioè quella era una fabbrica per lui era una discoteca in un'azienda quindi quando lui vedeva un ragazzo che si stava drogando prendeva lo portava in ufficio chiamava i genitori alcuni genitori apprezzavano molto altri meno ovviamente però lui mi ha detto che beh lo posso aiutare quindi lui faceva da padre diciamo il migliore incasso di cui ti ha parlato in quegli anni il migliore incasso è stato proprio guarda in quella fatidica sera dove il ragazzo è venuto a mancare era nel 2000 e c'erano 17.400 paganti a 10.000 lire più ovviamente tutte le consumazioni così si era sfiorato il mezzo miliardo di incasso in una sera con spese tra virgolette irrisorie ecco lui era abituato a quegli standard quindi dire spendo 70.000 per sti vocchi per guadagnarne 20.000 puliti eh sì ai tempi invece era più la situazione che lui aveva creato sì un po' di console ma spendendo qualche milioncino di lire quindi qualche miliardo di euro oggi per fare quei risultati devi probabilmente investire più di 100.000 euro per arrivare magari capito il senso è chiaro e l'arcore il mentore di questo movimento fu proprio Claudio Lancinaus che tu hai citato prima che ancora oggi in auge da noi è il nostro resident numero uno nell'arcore quando lo chiamiamo ah rifai arcore cioè hai continuato sì sì da quando poi è morto quel ragazzo mio padre decide di non fare più arcore per 11 anni poi dopo abbiamo ricominciato a fare degli eventi spot una volta ogni due tre mesi anche perché l'utenza del pubblico era sempre di meno perché era morto il movimento perché prima lo faceva ogni settimana ogni sabato sì sì quegli anni lì faceva 12-13 mila tutti i sabati arcore credibile per 12 anni niente tornando al discorso di Claudio Lancinaus lui fece questa vacanza in Olanda Amsterdam mi pare dove in Olanda la musica hard quindi a style arcore è lì che è nata ancora oggi lì fanno i festival con 100.000 persone e dice Mario c'è questo genere ho visto un sacco di gente un sacco di divertimento poi mio papà è sempre stato uno che gli piace lui diceva mi piace la cassa dritta e quindi fa fammela sentire proviamo a farla e allora ha dedicato alla sala 2 non alla sala principale uno spazio per questo genere nell'88 e ovviamente non è che l'ha fatto ed esploso ha costruito due anni poi nel 90 è partita fortissima fino al 2000 quei 10 anni lì sono stati devastanti e quindi è stato il primo locale in Italia a portare musica hardcore poi dopo tutti i vari localini ci hanno provato ma sai quando una cosa nasce lì ne hai la paternità esatto ancora oggi è il tempio dell'alcore è il number one punto stop quindi ecco è stato proprio questa escalation che probabilmente mio padre non si sarebbe neanche mai fermato perché con i casi che faceva il problema è che poi in quella serata del record 17.000 paganti questa persona viene a mancare anche lì poi ovviamente tramite autopsia hanno fatto tutte le loro analisi che il ragazzo aveva preso 10 pastie di ecstasy che poi in quegli anni che cultura c'era cioè cosa stavi prendendo boh cioè dovevi prenderla ma non sapevi neanche cosa cavolo ti stavi buttando giù quindi era molto pericoloso mi sono anche molto stupito poi rivedendo tutti i video eccetera di quegli anni come non si è mai morto nessuno per 10 anni cioè perché sai facendo questi numeri ogni settimana il rischio era altissimo però poi è arrivato il giorno che il ragazzo muore e come ti ho anticipato prima mio padre ha deciso di non avere voglia più di rischiare e iniziò quel periodo diciamo di morte per il locale perché proprio morì il number one dal 2001 al 2014 per 10 anni dove ogni anno mio padre metteva di tasca sua 200-300 mila ogni anno per tenere il bilancio io mi ricordo quegli anni dove si doveva reinventare il locale doveva creare una nuova wave una nuova cultura e mi ricordo che tante volte tuo padre comunque come con l'arcorpo dove c'è impiegato due anni è stato paziente quindi da innovatore da persona lungimirante li metteva a volte c'era pochissima gente lui comunque la montare delle spese era uguale come se fosse pieno però non mollava l'imperterito continuava e avendo le spalle grosse e ci credeva nel suo bambino non ha mai staccato il cordone umbilicale non l'avrebbe mai fatto e pensa che in quegli anni 10 anni di buio profondo a livello di incassi arrivò un'offerta nel 2008 quindi a metà crisi diciamo da Berlucchi mi ricordo offrì 7 milioni di euro per tutto il terreno del number one e nonostante tutto mio padre disse ne voglio 10 o niente Berlucchi arrivò a 9 e mio pa comunque non accettò ma probabilmente se avessi offerto anche 11 su 10 mio pa comunque non l'avrebbe mai venduto perché proprio era la sua la sua creatura la sua creatura un altro figlio con un legame diverso non di sangue ma di cuore io ho detto a mia mamma se il papà nel 2008 ha rifiutato i soldi che il locale perdeva ogni anno 300.000 da 8 anni quando mai lo venderà più mai perché quello lì fino a che lui morirà il number one ci sarà anche se sarà vuoto lui lo tiene non ce la fa e quando è che avviene lo switch? switch guarda avviene adesso non voglio citare il gruppo perché abbiamo litigato e non voglio fargli pubblicità comunque un gruppo esterno di pubblica relazione che aveva un forte giro nella zona abbiamo detto 2014 14 sì aveva creato un bel nome un bel logo contatta mio fratello Cristian mi interessa affittarci l'estivo del number one perché siamo rimasti senza estivo e siamo già ad aprile a maggio apriamo mio fratello arriva da mio padre gli dice la proposta mio pa in dialetto sempre lui dice io non l'ho affitto a nessuno mi credo giù le mani dal banco giù le mani dal banco però dopo io avevo già vent'anni comincio a fare un po' il lavaggio perché io invece avevo voglia di vedere questo locale insomma perché io avevo vent'anni andavo a ballare in altre discoteche non nella mia perché non rispecchiavano anche il mio di gusto ovviamente il ballo liscio eccetera quindi volevo dire papà facciamo qualcosa sono forti questi io praticamente ero un cliente di questi della concorrenza anche se non ci guadagniamo niente ma ci facciamo pubblicità e facciamo vedere la gente che sta nascendo una nuova cultura all'interno del number one esatto facciamogli vedere anche la struttura perché i giovani di 18 non l'avranno mai visto che è incredibile quindi cominciamo mio padre non so come facciamo questa collaborazione partiamo a maggio il 25 maggio tutti venerdì e sabati facciamo 3.000 venerdì 3.000 sabato 6.000 persone a weekend cose mai viste negli ultimi 15 anni mio papà ovviamente felicissimo di vedere era rinato dava in giro col petto in fuori con la sigaretta è come se fosse tornato trentenne veramente ero troppo felice poi però sono iniziati nei mesi successivi a emergere dei problemi molto pesanti per quanto riguarda la gestione perché mio padre è sempre stato abituato a avere tutto controllo mai avuto un socio nella sua vita giustamente questi organizzatori che ti portano tanta gente devi dargli un po' di potere regionale perché il format è loro quindi i DJ sono loro i vocali sono i loro hanno il loro ecosistema si sono appoggiati da noi come struttura ma papà lui poi si era autoconvinto che la gente ormai veniva per il number one e non più per loro capito e invece non era vero un po' sì perché comunque la gente che entrava diceva cavolo ma che bel posto siamo arrivati a un bivio dove mio padre non so veramente con quale poverino io abbiamo fatto io e mia mamma una violenza psicologica poverino un po' me ne pento ma non saremmo qui oggi a parlarne e decise di non venire più al locale mio papà per tre mesi perché non riusciva a vivere questa cosa a livello emotivo no non riusciva a viverla perché gli altri gestori comandavano a casa sua sì non ce la faceva niente arriva il momento che lui si il lavaggio di cervello vostro era per dirgli papà se la devi vivere così non venire perché a noi conviene che si continui a fare questa cosa non venire così non la vivi giusto e accetta e lui accetta non si presenta per un paio di mesi e di notte cosa faceva non dormiva aspettava che qualcuno tornasse per chiedere notizie o quando tornavamo a casa dall'ufficio alle sette di mattina era lì con caffelate allora come è andata subito voleva sapere alle sette come è andata perché è stata la sua vita per decenni sì 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 però aspetta sembrava tutto tranquillo stava finendo l'estate quindi la stagione estiva era andata bene lui si presenta lì si presenta al locale senza dirlo sì si presenta al locale senza dirlo ma perché aveva qualche dubbio c'è stato un campanello d'allarme così ho voluto fare un giro quella sera lì era quasi fine estate la prima settimana di settembre mancavano due settimane alla chiusura dell'estate allora vede uno di questi due gestori di questo format in bagno a drogarsi quindi stava pippando cocaina mio padre come ho detto prima sempre contrario a qualsiasi tipo di droga se poi lo fai nel suo ufficio nel bagno figurati proprio è una cosa che proprio non può accettare una mancanza di rispetto e sono andati sono andati proprio alle mani con questa persona a modo molto brusco l'ha cacciato via in diretta e ha detto tu qua non devi mai più metterci piede devi sparire devi andare via e da quel giorno lì cioè il giorno dopo la domenica esce il comunicato dell'organizzazione di questo format con scritto che il rapporto lavorativo con number one si conclude lì e non ci sarà mai più nessun tipo di rapporto e quindi lì mi crolla il mondo addosso a me perché senza così per avviso lui ha fatto questo gesto fuori mi sono arrabbiato molto con lui perché papà cioè tu qua lo capisco hai ragione però a volte sai se vuoi fare anche delle scelte un po' di intelligenza dico vabbè hai visto questa cosa prendi atto mi avvisi io lavoro in sordina ma non era quello il suo DNA lui è verace quindi l'unico modo per far sì che non succedesse era non farlo venire al locale e quindi arriva succede questa cosa e tu dici bene esce il comunicato dove gli altri mettono la parola fine e qua rischiamo di mettere la parola fine al locale come reagisci? la domenica dicono fine e mio padre aveva la presunzione di dire ah che noi sabato apriamo come dire tra sei giorni scusami apriamo come che i vocalist sono loro i DJ sono loro persino i baristi erano loro le cassiere era tutto loro dovevo creare sia uno staff fisico e tecnico per poter ripartire che poi una programmazione artistica ero disperato lì ho fatto dieci chiamate al giorno per cercare di farmi aiutare da vari gestori vari PR tutti quelli che avevano qualche aggancio portavo a casa tutto per starti personale insomma perché comunque sabato bisognava aprire sei matto ed è andata così? sì sì è andata così hai raccontato abbiamo aperto ovviamente gente che non si conosceva perché tutti staff nuovo tutto nuovo è bisogno di prendere le toppe e metterle insieme in una giacca rotta ecco così proprio però ce l'abbiamo fatta ti dico tornando al discorso di prima di Alberto Gobi anche lì mi ha aiutato molto Alberto perché mi ha messo lui un suo DJ una sua vocalist comunque sabato apriamo e facciamo 1300 paganti che rispetto ai 3000 sono meno della metà però partendo da zero è eccellente come numero esatto benino perché sai devi calcolare anche questo che la gente non è che è proprio molto attenta a queste cose noi abbiamo fatto comunque cinque mesi sempre pieni con questo gruppo quindi molti dei quali non sapere neanche del cambio sono tornati cioè su 3000 1300 sono tornati anche solo per curiosità vediamo com'è senza di questi e ci hanno dato fiducia comunque però ecco non mi accontentavo era un punto di partenza e quindi dico a questo famoso Alberto voglio che ogni settimana mi metti un artista internazionale ogni settimana perché io devo andare contro a questa organizzazione che mi ha messo il bastone tra le ruote dicendo che senza di noi il number chiude e quindi anche per orgoglio ho detto Albi mettimi tutte le settimane un ospite da 20-30 mila tutte le settimane e così infatti fece e poi questo coraggio l'hai tenuto ancora oggi poi ce lo racconti e quindi da lì ricostruisci sì però prendendomi una fetta di pubblico totalmente diversa rispetto a questo format che aveva costruito negli anni una brand identity importante intorno al nome dell'organizzazione e la gente lo seguiva a priori quindi senza artisti che per loro è una fortuna tutt'oggi perché la gente va per il mood ma non per l'ospite mentre io invece facendo questa scelta con Alberto mettimi un ospite a settimana ho ringiovanito molto la clientela quindi andavo su un pubblico di scuole diciamo quindi 17-18 anni che seguivano ovviamente gli ospiti del momento quindi così facendo mi sono totalmente distaccato da questo gruppo e da lì ripartì la generazione giovanissima quindi da quegli anni dal 2015 ricominciarono a venire la number one tutti i ragazzini 17-16-18 anni quindi quello che oggi chiamiamo la Gen Z quindi si è preso le nuove generazioni che potevano uscire la sera e siete cresciuti insieme esattamente oggi arrivano ancora ma hanno 24 anni esatto e infatti abbiamo ritirato un altro locale che è a 3 km da number one si chiama Quick Clubbing dove proponiamo un genere diverso diverso è più che di genere proprio una tipologia di club un po' più alto club hai detto bene club qui è stato costruito nel 2001 me lo ricordo Gino Liguori un napoletano amico di mio padre ha fatto gli anni d'oro faceva anche lui delle serate pazzesche non a livello di numeri perché è piccolo ma a livello di qualità i tavoli c'erano calciatori però poi anche lì con la crisi è sempre sceso di più nel 2016 quindi non tantissimi anni fa in realtà 6-7 anni fa Gino era un po' in difficoltà a livello economico e chiama mio padre comunque il rapporto era ottimo appunto perché non c'era concorrenza dei locali perché noi pubblico esatto e dice Mario io non ce la faccio più vuoi prenderlo tu piuttosto che darlo ad altri piuttosto che lo prendi tu ci siamo messi lì a parlare abbiamo chiuso una trattativa nel giro di 6 mesi tra una cosa e l'altra e mio papà ritira da una finanziaria che aveva in mano questo debito tra virgolette tutto l'immobile quindi abbiamo ritirato la struttura finanziariamente perdi guadagni come va? guarda ti dico prima del covid ero in guadagno covid ovviamente ha distrutto tutto però vabbè posso fare per chiunque durante il covid feci una scelta di vita un po' diversa ero un po' in un momento strano della mia vita e decidi di trasferirmi a Dubai un anno e mezzo ero un po' stressato ti dico la verità e quindi abbiamo deciso quell'anno di darlo in gestione in affitto e purtroppo non si rivelò una scelta azzeccata in quanto la gestione poi buttò giù ulteriormente quello che era il brand identity e quindi mi sono dovuto poi ritrovare quest'anno a dover ricostruire ancora da capo tutto abbiamo aperto guarda 5 settimane fa sto ripartendo ma ci vuole tempo ti dico facciamo 6-700 persone non perdo soldi ma non li guadagno neanche ritroviamo su number one quindi tu tendenzialmente ci sono queste 1300 persone ricostruisci Alberto Gobi ti aiuta e crei questa nuova cultura comincia a fare ospiti internazionali abitui le persone a poter vederle all'interno del tuo locale a livello artistico a livello di sound a livello di tutto dei nomi super wow continuamente e poi come cavalchi i trend che accadono con questa genzica a 17 anni in quegli anni lì hai detto giusto bisogna cavalcare i trend e oggi purtroppo per fortuna sono velocissimi devi essere proprio al passo cioè in una settimana ti cambia tutto quindi ti fai un ospite ad 80.000 euro che non piace e tu hai perso tutto poi ti racconto un addetto invece che mi ha cambiato a me nel senso che ho preso un ospite a pochissimo prezzo che in sei mesi è esploso e quindi niente bisogna stare al passo anche lì aiutato ovviamente dalle varie agenzie ma non solo mi informavo pure io ovviamente poi io sono sempre uno che ha viaggiato molto quindi mi piaceva stare sempre al passo e aggiornato ho percepito proprio un cambio netto nel 2017 quindi dal 2014 al 2017 l'EDM era l'unico punto che i ragazzini volevano nel 2017 io ho percepito questa cosa che il social stesso ha creato questo perché Instagram con anche la nascita delle storie ti ha portato a entrerne la loro vita mi sono proprio preso conto che i ragazzini stessi si legavano non tanto alla musica ma al personaggio stesso quindi tante volte pagavano per vederlo solo ma non per sentirlo cosa invece che con l'EDM con il DJ era l'opposto tu stavi lì e ti gustavi il DJ set dell'artista qua invece magari vengono fanno 20 minuti questi artisti rapper, trapper e la gente impazzisce solo perché il loro idolo è lì sono influencer non sono più solo artisti sono anche artisti chiaramente ma sono anche influencer che è fondamentale questo quindi quando mi chiedono anche oggi ma per te quanto dura ancora questa cosa io fino a che i social spingono a questi livelli non vedo un cambiamento perché il DJ non è facile farlo arrivare nel cuore delle persone perché il DJ parla con la musica non con le parole invece il rapper ti fa conoscere dove va a mangiare ti fa vedere i soldi ti presenta la sua vita e quindi tu ti affezioni proprio al personaggio l'artista invece come può essere ok se devi guetta vabbè ovviamente sei un'icona ma un DJ nuovo come fa a farsi amare da un giovane visto che oggi sei veramente 69 viene in Italia se c'è una data da fare la fai tu quindi oggi sei diventato il tempio di quella cosa su una scalabilità importante perché su migliaia e migliaia di capienza quindi puoi fare dei numeri devastanti tu come fai a captare ciò che potrebbe funzionare un domani viaggi tu personalmente o hai i tuoi osservatori della nightlife guarda gli osservatori non tantissimi sai chi sono i miei follower chiaro questo è ovviamente un grande vantaggio è assurdo perché hai citato il nome giusto 69 che era quello che volevo dirti 69 mi ricordo guarda ero in macchina era fine 2017 e dissi ragazzi ma vorrei portare un trapper americano mai venuto in Italia in generale perché non si usava molto a fare questi ospiti americani vedi qualche rapper ma no un americano datemi un po' di consigli su Instagram ho scritto così mi arrivano una caterba di messaggi ma questo nome 69 69 69 69 una marea di messaggi tantissimi DM vado a vedere chi è mai visto io sinceramente però in America comunque su YouTube ho visto i video faceva già diversi milioni di bisogni e poi lui avendo fatto le pezzi con i chiminaggi e tutto ha fatto anche il miliardo dopo dopo ok questo era dicembre 2017 quindi non era ancora proprio diciamo mainstream in Italia non si sapeva mi ricordo su Instagram aveva un milione e 700 mila follower a dicembre quando poi è arrivato al number dopo 8 mesi aveva 20 milioni quindi ha fatto una sua casa pazzesca chiamo Alberto albi guarda che ti ho mandato un link su Whatsapp aprilo in tua voce schiaccia adesso non so se posso dire le parolacce dice Steven chi cazzo è questo personaggio perché aveva tutti i denti colorati tipo oroma colorato tipo arcobaleno le trecine tutte colorate e tutti i tatuaggi in faccia quindi un personaggio che rispetto al mondo DJ di Alberto dico albi io non lo so chi è sinceramente però mi sono arrivati tanti tanti messaggi fammi un piacere visto che non so come contattarlo informati chi è la sua agenzia internazionale e chiediamogli quanto costa fare un DJ set e loro hanno risposto around intorno ai 45 mila dollari quindi per me ti dico abituato in quei anni precedenti a pagare anche Steve Hawking 70 o Dimitri Vegas like Mike io li feci nel 2017 prima data in Italia primi DJ nel mondo 150 mila euro meno costati per fare 40 minuti arriva sta proposta guarda se loro chiedono 45 offriamo 35 la chiudiamo qua 35 mila euro e chiudiamo va bene facciamola chiudiamo contratto ho mandato subito il 50% dalla firma a dicembre 2017 decido di mettere fuori la data a fine aprile perché la data sarebbe stata poi il 30 giugno 2018 o metto l'evento che all'epoca cioè all'epoca sembra tanto ma sono 5 anni fa però nei social cambia tanto in 5 anni si usava più Facebook che Instagram per comunicare gli eventi c'era proprio crea l'evento Facebook e in base all'evento c'era partecipa mi sembra una stupidata ma mi taravo molto su questo partecipa io calcolavo quanti partecipanti c'erano e più o meno sai che era abbastanza attendibile è attendibile oh carico l'evento in due ore 6 mila partecipanti cosa mai è successo 6 mila in due ore chiamo subito il direttore artistico mi dava una mano Denis non lavoriamo mai noi con le pre-vendite online perché la nostra cultura è arrivi paghi entri però ho detto no qua bisogna incassare subito perché mancano due mesi cioè portiamo a casa i soldi creiamo le link delle pre-vendite online 3 mila ticket venduti in 48 ore a 25 euro mi hanno già pagato l'artista nel senso di tempo quindi da dicembre a aprile lui aveva fatto appunto il famoso album con Nicki Minaj tutti questi rapper famosi era esploso anche in Europa che prima no solo americano e da un milione e setecento mila foro e passò a 20 milioni per oggi avere non so quanti nella 50 quindi la percezione era che io avevo pagato un artista 200 mila dollari 300 e non 30 mila dollari e lei fece veramente un colpaccio non c'è il rischio che lui un po' come nel calcio la clausola escissoria abbia una penale perché magari in quel momento costa 150 mila e ti dica sai che c'è ti ridò i 20-30 mila perché è una giungla il mondo della notte da quel punto di vista e non c'è molto rispetto ti annullano la data al giorno prima non capendo che tu cavolo sei un'azienda come dicevamo prima vabbè detto ciò è stato molto corretto perché giustamente come tu dici la sua percezione sapeva che lui ormai in Europa avrebbe potuto chiedere dieci volte tanto è stato molto corretto forse anche perché non lo so aveva fatto zero date in Italia non aveva offerte ancora in essere perché probabilmente 200 mila non lo prendeva nessuno e ha mantenuto il rapporto del contratto non ha chiesto neanche un euro in più è stato perfetto perfetto ti dico e so che invece come tu hai detto tanti artisti che hanno questo sbalzo di cachet ti annullano la data da contratto ovviamente ti danno una penale magari di 10 mila dollari su 30 di cachet finita lì però io non mi sarei mai accontentato di prendere 10 perché sapevo che ne avrei fatti 100 con la data e da lì cambia qualcosa per il number one ma sì nel percepito di tutti cambia molto perché ho avuto proprio la contoprova da quel 30 giugno 2018 che qualcosa stava cambiando a livello musicale e da lì poi ho deciso di continuare a proporre anche questo tipo di artisti ne ho fatti parecchi poi ho fatto anche Gunna, Farrucco Rich The Kid nomi comunque che all'epoca 5 anni fa non si sentivano parti sempre da quello che ti chiedono i follower sempre da lì poi dopo filtri però non parti mai di sana pianta da una cosa che credi che vedi solo tu è anche successo sicuramente sì però sai cavolo quando hai una fortuna di avere un pubblico che ti dice quello che gli piace perché non ascoltarlo ancora oggi io sui miei canali faccio scegliere a loro tante volte ho fatto un contest due o tre mesi fa dove chiedevo ai ragazzi su TikTok di scegliere tra Capoplazza e Tedua ha vinto Tedua per pochi voti hanno fatto 15.000 commenti il video con quasi un milione di views e io Tedua lo porterò sabato prossimo al number one ormai fai ospiti tutte le settimane sì tutte le settimane le persone sono abituate ormai non è un po' sì è controproduttivo te lo chiedo da un punto di vista di business non sei poi ostaggio esatto succube di questa cosa che se non c'è l'ospite perché magari li hai esauriti li hai fatti pure due o tre volte ognuno bravo e che succede? lo sei però questa cosa ne parlavo proprio anche pochi mesi fa con mia madre che dice che se gli dai troppo la gente poi si abitua non sai non sei a Las Vegas o a Miami dove c'è il pubblico che cambia il turista dici puoi fare come Ibiza ogni settimana ci sono gli stessi nomi ma tanto la gente cambia qua sei a Brescia quindi la gente è sempre la stessa però ti dico io non riuscirei più ad oggi perché lavoro anche per passione ovviamente non solo per il denaro come se no non sarei lì a vedere il mio locale so che senza ospite comunque porterei a casa una buona serata perché come ti ho detto prima noi lo zoccolo duro delle 1.700-2.000 le abbiamo che a priori anche se sono io vengono però ecco se posso vedere il mio locale con 4.000-5.000 ogni sabato mi fa stare più sereno vedere il locale pieno cioè è un contenitore talmente grande con tutte queste sale che aprire solo una magari perché ho 2.000 persone a me mi piange il cuore nonostante magari a livello di incasso economico guadagno di più con 2.000 persone 15 euro senza ospite hai anticipato la mia domanda stavo per chiederti esattamente quello se il surplus per fare quelle 4.000-5.000 ti costa più di quanto realmente avresti marginato con meno fatica però con poca personalità e meno rischio sì però poi dopo non hai più quella forte identità che ti contraddistingue rispetto agli altri quindi quell'asset la brand identity la perdi hai toccato il punto giusto infatti non voglio neanche io somigliare a tutti gli altri locali chiamiamo così in modo dispeggiativo ma non lo è perché alla fine sono anche io un provinciale sono nato in provincia quindi non voglio essere un locale provinciale capito col DJ da 200 euro tu rispetto perché se no sì sì tu per provinciale intendi uno che non cavalca quello che è il trend del momento esatto vorrei essere internazionale come posto infatti mio papà diceva sempre Ibiza è qui se l'ha fatto fare una maglietta con la sua faccia così tutto Ibiza è qui come dire siamo a livello internazionale siamo a Brescia ma portiamo i nomi che portano Dimitri Vegas Mike, Steve Occhi insomma Bob Sinclair tutti nomi famosissimi Afrojack Nicky Romero Axwell tutti sono venuti da noi quindi i tuoi follower sono i tuoi osservatori e il tuo format è quello di presidiare in massimi livelli quello che è il trend del momento portando i nomi migliori e cavalcando quell'era musicale finché ha qualcosa da dare oggi il number one è un'impresa che funziona sì funziona non posso dire che non funziona perché veramente cioè finanziariamente ha un ecosistema positivo molto positivo nel periodo covid quindi non incassi ma nel tuo caso non perdi o comunque avevi dipendenti da pagare cioè come hai gestito il periodo covid il periodo covid è stato abbastanza complicato perché c'erano dipendenti storici del locale che praticamente stavano anche andando in pensione devi sapere che molte persone che lavorano all'interno ancora oggi che sono magari adesso diventate le cambusiere quelle che puliscono perché una volta magari erano baristi ma non puoi più lavorare con i baristi di 60 anni sono ancora legati al number one io avrò almeno 15 persone che stanno finendo adesso e vanno in pensione con noi c'è il parcheggiatore che sono lì da 77 quindi tante persone sono veramente invecchiate lì quindi non potevo sicuramente smettere di pagarle ho continuato comunque le hai messi in cassa integrazione tutte queste persone sì e le altre invece dico quelle che veritavano quelle valide comunque io ho trovato qualcosa da fare non l'ho mai asciuta a casa o comunque se non le facevo lavorare gli davo comunque un qualcosa per tenermele vicine ti parlo di 7-8 persone che non potevo assolutamente permettermi di perdere perché magari sai in tempi di covid tanti giovani hanno poi cambiato totalmente il lavoro cioè il barista che arrotondava in discoteca ha smesso di farlo ovviamente quindi è dato a lavorare in fabbrica poi quando avevi bisogno che siamo ripartiti ti rispondeva guarda non vengo più lavorare il sabato perché adesso prendo 1300 euro lavoro in fabbrica quindi sai erano cambiate molte dinamiche infatti c'era anche il problema poi di trovare le reclute nuove quando abbiamo riaperto però è questo abbastanza complicato da gestire questo tu mi sembri una persona piuttosto felice positiva aperta alla vita nel senso un preso bene come spesso dico e come si dice a Milano allora intanto lavori sul tuo personal branding e cominci a lavorare sulla tua immagine personale quindi ti conoscono tutti per il tuo claim iniziale bella ragazza e tu sei il number one per tutti hai pochissimo hating perché dai sempre dei messaggi positivi affronti la vita in modo bello c'hai sempre una razio dietro ogni singola cosa che spieghi che è ben argomentato e funziona e poi nei tuoi contenuti vedo cose dove racconti a volte delle chicche delle esigenze degli artisti poi te lo chiedo ma quando un tuo ospite viene da te quindi dove tu già hai onorato il suo cachet come fanno tutti gli hai messo davanti un palco strepitoso un pubblico incredibile quindi non è più una data normale è quasi un concerto in una discoteca cioè una cosa ibrida che forse non esiste in Italia forse però tu non ti fermi lì tu in camerino quando finisce la serata gli fai un regalo oneroso costoso e quando ti vedo che lo fai ti guardo e ti sento solo cioè è come se tu stessi chiedendo di aggregarsi alla tua persona cioè non tanto di metterti al centro per protagonismo ma proprio per dare un valore alla tua persona un valore al tuo cuore un valore alla tua esistenza e leggo molto questa cosa quando tu lo fai voglio sapere intanto se hai capito cosa intendo ho capito benissimo mi racconti questo pezzo non tanto del regalo ma proprio di questo mood sì allora partendo dall'inizio delle cose che hai detto guarda io il mio personal branding lo costruisco in realtà partendo da Instagram anni fa ovviamente su Instagram si poteva comunicare diversamente rispetto a TikTok quindi un po' più quotidiano che su TikTok invece ti prepari il video ne metti uno due tre settimane ma crei un concetto invece Instagram puoi mettere anche cento storie al giorno quindi più la mia vita privata e creo già una piccola fetta di pubblico appassionata alla mia vita quindi è quello che faccio vuole sapere tutte le mie robe cioè insomma si appassionano a Steven comunicavo comunque la discoteca però non era così in modo specifico invece poi TikTok pochi mesi fa perché io TikTok l'ho aperto due anni fa ma non l'ho mai utilizzato fino ad aprile di quest'anno quindi fondamentalmente sono nuovo sulla piattaforma e anche non sapevo come affrontarla come presidiarla cosa dico cosa metto poi ecco apri una parentesi io non mi sarei mai permesso di espormi in prima persona con mio padre in vita perché come ho detto prima è sempre stata lui l'icona che faceva le foto al locale che fermava la gente mi sarei mai preso una carica che non mi apparteneva dal momento in cui lui è venuto a mancare e lo scettro è passato di conseguenza a me e mi sono dovuto prendere a carico una serie di responsabilità su TikTok ho provato a dire vabbè facciamo una cosa visto che comunque ho questa azienda che comunque ha 45 anni di storia facciamo un video dove presento le sette sale del number one e quello fu il primo video virale con un milione e mezzo di visualizzazioni che mi fece capire una cosa molto importante non tanto le visualizzazioni che mi interessavano poco i commenti erano multigenerazionali cioè c'era quello che mi diceva bellissimo venivo nell'82 il ragazzino nuovo vengo sempre la mamma mandavo mio figlio cioè era proprio una cosa che ho detto cavolo qua c'è tanta ciccia da poter portare perché c'è un sacco di gente che ci ha passato da questo locale e quindi dico va bene coltiviamo questo percorso su TikTok dove andiamo verticali sul number one rilasciandomi poi al regalo il primo video ti dico la verità anzi la prima volta che feci un regalo era a Wepequegno e non faceva parte ancora del mio progetto infatti tanto è vero che non ripresi la scena feci un regalo abbastanza anche lì oneroso un paio di occhiali perché lui è molto appassionato di occhiali una limited edition di Chrome Arts e apprezzo tantissimo io per mia indole non farò mai l'emogena dire mi segui su Instagram mi taghi tanto è vero che lui mi disse in camerino bro ma come ti chiami su Instagram devo taggarti per il regalo no no tranquillo io mi chiamo così ma non taggarmi c'è una cosa che ho fatto con piacere lui di sua spontanea volontà il giorno dopo mi segue su Instagram e mi tagga grazie bro con gli occhiali da lì ho capito che cavolo aveva apprezzato veramente questa cosa quindi mi aveva veramente appagato a livello di soddisfazione che un artista che comunque come me non ha bisogno che gli regali un paio di occhiali da 1000 o 2000 euro però ha percepito la mia onestà nel file in cambio di nulla e quindi ho detto portiamolo questo format di fare un regalo perché come dicevi te mettiamoci nei panni di un artista che viene in un locale di 45 anni che magari era già cliente oppure lui è storico gli fai trovare davanti 4000, 5000, 6000, 7000 persone quindi una data ben riuscita in più il proprietario ti saluta il proprietario comunque è anche conosciuto il proprietario ti fa un regalo cioè diventa una bella connection mi hai risposto per la strategia ma non mi hai risposto a livello personale rispetto alla solitudine il bisogno magari di avere intorno a te delle persone che ti diano un valore come essere umano ma guarda ti vorrei dire in questo momento che sono un po' un lupo solitario perché di base nascere in questa situazione mia familiare dove per me c'era solo mio padre mia madre punto mi ha anche reso abbastanza un lupo solitario a livello di amicizie poi io sono il primo che si è andato a fare la cacciara la faccio per l'amor di Dio però ecco rispetto invece a livello amoroso dove sono totalmente l'opposto rispetto all'amicizia questo cosa vuol dire che da quando io ho 18 anni ho sempre avuto una figura in parte diversa ma ho sempre avuto qualcuno sei sempre stato fidanzato vabbè magari con persone più o meno importanti però comunque una figura femminile in parte ma tu perché questo me lo dici perché ti ha dato equilibrio te lo dico perché perché come hai parlato di solitudine credo che un pochettino io in realtà non abbia mai veramente imparato a stare solo perché di base ho un po' paura di questa solitudine nonostante a volte avere troppa gente intorno mi nausea mi stufa però dal lato amoroso invece mi rendo conto che non so stare solo ho sempre bisogno di una figura in parte che mi dà quella certezza quella non lo so non so spiegarti e tornando al discorso del regalo sì di base come ho detto prima riempi più o me il cuore a volte regalare un qualcosa che riceverlo che mi crea imbarazzo nel dovere magari anche solo ringraziare mi crea quello imbarazzo quindi magari mascherare il fatto che ti piaccia o meno capisco perfettamente quello di cui parli lo vedo che godi di più nel vedere la persona felice che magari ti dice robe non lo so bella bro bellissimo spacca cioè che lo vedi proprio felice come un bambino e ti appaga questo si nota poi questa cosa Luca ha creato anche oggettivamente parlando una vera connection tra me e gli artisti io lo dico sempre nel mio mondo imprenditoriale della comunicazione che tutte queste cose fake puzzano proprio di combinato invece le cose spontanee fanno nascere la magia e fanno nascere qualcosa di incredibile dietro quello di cui stai parlando esatto manca il fatto di installare oggi un bel rapporto con appunto Shiva Amy Schilla Mambolosco Wepecchino io vado a casa loro l'altro giorno ero da Shiva tra l'altro ti dico una cosa in esclusiva che nessuno sa ho appena aperto una società al 50% con Shiva e per la prima volta verrò a fare un'azienda qua a Milano che era un ex Starbucks che ha chiuso abbiamo ritirato l'immobile in affitto e faremo un nostro cocktail bar premium lounge shisha lounge insomma di elite però io 50% Shiva 50% quindi anche a livello di comunicazione interessante rendere un imprenditore nel mondo della notte e un rapper comunque molto rispettato perché Shiva è nel top 5 italiano insieme ed è lui che mi ha contattato perché Steven sei in gamba voglio fare qualcosa con te apriamo una parentesi sulla parte dell'impresa ai 30 anni io l'unici video che ho trovato tu in rete ne ho trovati due dove parli dropshipping quindi dove parli insieme a dei compagni di avventura comunque quello che tua madre ha cercato di farti imparare lo hai imparato perché hai questo senso dell'impresa quanti business hai attivi se vuoi raccontarmene alcuni ma solo il macro titolo certo guarda hai toccato il punto prima quando parlavamo di l'era covid di come ho gestito quel periodo e io ti ho anticipato il fatto che mi trasferì a Dubai questo perché perché insieme a questi miei due soci era già qualche annetto che bazzicavamo nel mondo dell'online quindi e-commerce sto parlando quindi tramite influencer marketing quindi classiche sponsorizzate di prodotti ma anche come mondo di ads adb quindi prendiamo il prodotto lo sponsorizziamo qualsiasi strumento potesse divulgare un qualcosa esattamente e il covid ti dico mi ha fatto fare uno sbalzo assurdo a livello di introiti su e-commerce perché tutte le persone anche quelle non abituate ad affrontare il mondo dell'online per forza di cose si volevano comprare anche l'elastico per i capelli quindi l'utenza è quadruplicata e soprattutto ti dico guarda aprile 2019 primo covid crisi nel mondo del fitness tutte le persone volevano allenarsi non sapevano come fare con le palestre chiuse poi sai il palestrato di base già è un po' malato nel senso perché comunque gli piace ha bisogno di allenamento quindi se gli togli quello gli togli tutto e allora con i miei soci abbiamo deciso di lanciare questo store di prodotti fitness quello che c'era perché c'era pochissimo e abbiamo trovato un prodotto stupidissimo che erano delle corde degli elastici multifunzionali facevi un po' di tutto con quelle solo nel mese di aprile abbiamo venduto 500 mila dollari di corde cioè per dire quindi ecco è lì che mi è scattata un po' quella cosa di dire chi me lo fa fare di tornare in Italia a lavorare quando faccio 500 mila cioè tu dici da remoto faccio la programmazione artistica del mio locale posso lavorare su quello che è il mondo online e-commerce perché alla fine lì non tocco neanche il prodotto scelgo il prodotto giusto trovo il fornitore trovo la country giusta e divulgo quindi investo in comunicazione giusto e in quel tempo lì di covid da Dubai c'era una percezione di vita quasi normale perché c'erano 3-4 morti al giorno mentre qua ce n'erano 1000, 1500, 2000 altrimenti sono mi ricordo di numeri ma comunque là erano 3-4 morti il picco è stato 18 morti quindi sì c'era la mascherina discoteca chiuse ma comunque c'entri commerciali aperti però la vita era accesa potete arrivare in spiaggia comunque stavi da Dio cosa ti ha fatto scattare il click di tornare? la malattia di mio papà quando si aggrava se no saresti rimasto? ma probabilmente chi lo sa può essere se mio papà oggi avesse 65-70 anni in forza io avrei comunque potuto continuare ad aiutarli a livello remoto come tu dicevi però magari andavo avanti a vivere perché io come dicevo prima amo viaggiare quindi questo mondo un po' mi lega a Brescia perché comunque tu il venerdì e sabato devi stare lì adesso sono tornato da New York due giorni fa però cosa faccio? parto la domenica e torno il giovedì non hai mai fatto un weekend fuori? pochissime volte penso che in 10 anni ho saltato 10 sabati una settimana all'anno salto dai sono sempre presente comunque quindi ecco mi stava piacendo questa roba qui di guadagnare tanto con un lavoro online quindi poca fatica e nel frattempo il locale ripartiva comunque perché ti ripeto al suo ecosistema tanto i soldi ti dico anche la verità Luca di là io non guadagnavo cioè tanto perché mio papà era vivo quindi tutti i soldi li prendeva lui ero direttore artistico stipendiato diciamo bene prendevo 5.000 euro al mese quando sull'online facevo 500 al mese di fatturato con un utile magari di 50k da dividere in tre più dopo tutte le altre cose erano pochi capito? vedendo soprattutto scusa gli incassi che poi facevo perché magari una serata l'utile era di 60.000 e a me mi veniva 1.000 ogni sabato di 60 ma questo a me non mi interessava i soldi di mio padre per me erano sacrosanti chi se ne frega dai le tutte a lui quando poi le cose sono cambiate che ho preso in mano io che quei 50.000 30.000 20.000 a sera mi rimangono in tasca a me allora capisci che devo mettere anche sul petto da bilancia le priorità a livello lavorativo quindi se mi conviene così tanto stare qua mi sacrifico volentieri chiaramente qualora un giorno cambiasse la mia mission continua perché il number one anche se domani dovesse andare male come fece mio padre io per mia propria missione continuerò a foraggiare penso che è difficile che possa succedere perché comunque se stai al passo con la moda una volta che aggiorni gli ospiti il locale si riempie credi veramente che farei quello che hai appena detto cioè se domani dovesse andare a scemare non stacchi il cordone ombelicale non faresti l'imprenditore cinico nel dire non ce la farei ho messo la mia vita mio papà ci ha messo la sua intera vita però piuttosto che vedere qualcosa che si sgretola magari ci sono altre dimensioni altri mondi che ti attraggono molto di più ma sicuramente però mi sento in mancanza di rispetto sicuramente lasciarlo chiuso no poi come diceva mio padre tutto in vendita ovviamente no anche alla sua tutto è un prezzo certo però lui diceva sempre questa cosa mi ricordo anche per la sua casa al lago che è stata la sua prima casa che è riuscito a conquistarsi dopo quel periodo della bicicletta famoso la prima sua conquista la sua prima vera casa l'ha comprata su lago di Iseo che è una villa bellissima delle 800 ecco quella è come il number one non puoi toccagliela qualsiasi cifra però ha sempre detto al giusto prezzo la vendo nel senso voglio piangere ma sorridere quindi dico Luca se un giorno mi auguro di no il number one magari dovesse andare male per qualsiasi tipo di motivo la moda cambia le discoteche non vanno più di moda perché la gente va nel metaverso e quindi non va più fisicamente a ballare potrei valutare una cessione non dall'azienda perché penso che appunto se non va con me non va con nessun altro esatto ma penso che con la testa che hai domani potrebbe essere l'headquarter di qualcos'altro che non è l'intrattenimento notturno perché la fortuna del posto comunque che già tanti anni fa mio papà ha fatto le concessioni col comune che può essere un albergo può essere un campo sportivo un'RSA per gli anziani quindi comunque puoi rivalutare la Franciacorta esattamente quanti altri locali hai? sono tre locali in totale anche un ristorante no? sì il discoteca è tre ma tua mamma adesso cosa fa? mia madre adesso vabbè ha preso un po' in carico la parte l'ha sempre fatto in realtà un po' più amministrativa e a livello pratico gestisce al 100% invece la struttura che hai detto prima che è un ristorante in provincia di Brescia è una struttura che ha anche delle camere quindi ha un salone molto grande per fare matrimoni banchetti e cerimonie e invece un'altra struttura su tre piani dove propone ristorazione classica e non sei dentro a livello come dire di azionariato no 100% mia madre quindi hai il number il qui il qui e cacao sempre nel Bresciano sì vicino sempre a 20 minuti cacao nasce per una mia testardaggine perché avevo questa voglia comunque di guadagnare di più senza mancare di rispetto a mio padre avrei comunque portato avanti il number one anche se la tua arriva con la ruspa anche cacao e io decido con i miei risparmi a 25 anni 5 anni fa avevo messo io un po' di soldi e decisi di fare questo investimento senza comprarlo in mobile perché non potevo permetterlo in affitto pagavo 4.500 euro al mese però l'arredo mi costò tanto cioè tipo 700.000 euro per farlo a step ho dovuto farlo tre anni ci ho messo e perché nasce questa esigenza perché mi accorsi che il quick labbing che non era mio era in forte difficoltà e io quindi costruì questo cacao a 8 km dal quick labbing per ucciderlo perché era già in difficoltà era quasi alle corde e percepivo che c'era una fetta di pubblico che non sapeva più dove andare a ballare pubblico adulto e quindi cosa faccio vado da tutti i PR più forti del quick labbing gli faccio una proposta economica li porto tutti a cacao parto con la stagione nel dicembre 2017 e faccio una stagione pazzesca con tutti i miei PR esplodeva il posto però cosa succede l'anno dopo il quick fallisce e arriva la famosa chiamata che abbiamo detto prima di Gino a mio padre il problema è che io l'anno dopo mi sono trovato anche con il quick labbing di proprietà ed era la copia esatta del cacao il locale creato per buttare giù il qui infatti adesso io il cacao ce l'ho è in essere però l'hai chiuso è chiuso e cosa faccio l'ho affitto a feste punto diciamo a fare arrivi a break even così con i tuoi costi facendolo in quella maniera sei proprietario dei muri no quindi è l'unica struttura l'unica struttura di tutto quello che abbiamo che non è mia guarda costi fissino 50.000 all'anno di quel posto lì 55.000 però hai i 7800k che hai speso all'inizio quindi dici me lo devo tenere devo ammortizzare bravo hai un'idea su come farlo funzionare ma solo perché certo ti ingombra la mente ingombra molto esatto qual è il tuo piano? guarda ho anche pensato che c'è un ragazzo che voleva comprarmi la licenza quindi anche tutto l'arredo l'impianto luci audio e tutto e voleva darmi una cifra simbolica diciamo di 250.000 rispetto ai 7800 che ho messo dentro era poco ma non è tanto quello che ho fatto avrei potuto recuperare però fino che è mio lo tengo chiuso parcheggiato se mi entra qualcuno che poi veramente mi va a rifare concorrenza non qui forse se succede meglio perché ti togli questa cosa sai esattamente come ricontrastarlo tu con il cui dopo visto che stai pensando alla brand identity quindi anticipare tu la mossa la fai subito dopo guarda Luca mi fai una domanda che non mi ha fatto dormire per due anni io ho avuto un grosso sbandamento perché comunque sì sapevo che dietro di me avevo mio padre mia madre con un patrimonio però io non facevo conto su quei soldi quindi quei 700.000 che insomma misi dentro in quei tempi per me erano quasi tutto quello che avevo di conseguenza non dormivo la notte non dormivo la notte perché non riuscivo a far partire quel locale lì che ad oggi ancora non è mai diciamo esploso a parte la prima stagione dove facevo veramente 40k di incasso tutte le sere però non mi davo pace perché ho fatto una cosa mi sono esposto pensa che è stupido mio padre mi diceva sempre Steven hai fatto un errore ma anche io non ho fatti tanti l'importante è che quando fai la scala degli errori quando cadi fai due gradini sotto non la fai tutta perché se la fai tutta dopo ripartire è quasi impossibile ti sei scottato non preoccuparti c'è tuo padre c'è la tua famiglia dietro io non dormivo di notte mi sentivo povero capito però visto che adesso sono situazioni diverse io per esempio avevo aperto a mio fratellino quando aveva neanche 18 anni un solarium avevo aperto uno a Milano visto che in 40 metri quadri l'ho venduto dopo un anno esattamente al doppio e ho detto cavolo bella lì quasi quasi so fare quel lavoro cazzata ne apro un'imbrianza che è dieci volte più grande con la sala giochi dentro cioè o è proprio esagerato e andava da dio il primo anno poi ho cominciato ad andare a scemare a scemare a scemare sempre di più e ricordo che viene una persona che aveva avuto in eredità dei soldi e voleva per sua figlia aprirgli quel posto e mi propose una cifra che era tendenzialmente la metà di quello che io avevo perso e io ho detto ma va nella mia testa poi era un pischello era o mi dai quello che ho perso e quindi risolvi i miei problemi in un minuto o altrimenti col cavolo quando ho deciso poi di venderlo ci ho perso il 92% quindi se avessi accettato avrei perso quasi solo il 50% e il mio lavoro andava bene andava tutto bene quella era una cosa che non era andata bene mi dovevo togliere il pensiero perché era un'emorragia che continuava a sanguinare visto che oggi nella tua vita non ti fa la differenza anzi la fa perché quello ti occupa spazio nella mente stai procrastinando stai tappando i buchi stai trovando delle piccole soluzioni per dire a te stesso che dai hai rispetto di quello che sta accadendo ma non è una vera soluzione quindi forse la soluzione migliore è veramente vendola anche a meno di quanto hai speso con il cui vai a rifare tutto quello che avresti potuto fare lì e che lo stai facendo adesso così è proprio hai detto una cosa perfetta già solo per arrivare al punto di chiuderlo è stato difficile perché è una missione di un fallimento che sai non vorresti mai avere un fallimento nella tua vita quindi poi abituato comunque che tutto andava bene io ho fallito mi ero proprio depresso sinceramente un pochettino io ti consiglio un sinonimo meraviglioso hai imparato non hai fallito giusto l'esperienza si fa attraverso i fallimenti io sono fallito 50 miliardi di volte per cercare di farne almeno uno in più bene rispetto alle altre prima io e te bevavamo un caffè prima di questa conversazione non ci siamo mai conosciuti ma per interposte persone abbiamo parlato l'uno dell'altro e tu hai conosciuto il mio socio quando eri fidanzato con una persona nota e stavamo parlando di quello e dove ti vedevo che dentro di te non avevi rilasciato quelle emozioni e quindi è un po' come il discorso del business questa persona che ti ha ferito volontariamente o involontariamente però ha lasciato dentro di te una ferita se tu non pulisci quella ferita perdonando ogni volta che sentirai il suo nome quindi vale per il locale o ogni volta che passerai davanti e incrocerai quell'attività o quella persona avrai una frizione l'unico modo per pulirlo è debellarla dalla tua vita in modo tale che poi ti sia indifferente e quindi perdonare che tu abbia subito o che tu abbia fatto subire comunque è una cosa che fa parte del tuo passato ed è molto importante quindi non vivere mai come un fallimento ma come un grande insegnamento della vita io nella puntata del mio podcast dove parlo della mia storia ma anche in altre puntate spiego spesso come oggi vedo quelle cose guardo l'obiettivo qual è il mio obiettivo cioè se fossi io Steven oggi e far meglio nelle cose che mi rendono felice avere rapporti con delle persone se ho capito bene oggi stai facendo che non mi hai detto tutti i tuoi business ma non è che tu mi li debba dire ma hai fatto degli esempi tu prendi persone che hanno notorietà vuol dire comunicazione un amplificatore che è quello che ti è servito col dropshipping tu ci metti l'impresa ed è la combo perfetta ed è win-win quindi oggi l'hai trovata la tua strada tutto ciò che ti intralcia in quella cosa non sta aiutandoti a conseguire l'obiettivo quindi dovresti dire fammi scrivere su un muro bianco tutto quello che sto facendo e poi cominci a fare una colonna a sinistra a destra c'è la meta e sono gli obiettivi cos'è che ti intralcia quella roba lì è in vendita la metà un quarto un decimo perché mi sta ostacolando per arrivare all'obiettivo che vale molto di più uno di felicità e due di business questo oggi è il mio modo di leggere la vita credo che mia madre si è posseduta del tuo corpo in questo momento sono i suoi discorsi sono i suoi discorsi perché lei vive molto in questo mood che tu mi hai appena riportato e i miei contrasti con lei nascono spesso da questa difficoltà di dialogo perché lei vorrebbe appunto questa mia serenità che poi io oggettivamente a mente lucida mi siedo e dico cavolo non mi manca niente come tu dici sto bene di salute ho le mie aziende che mi rendono felice altre magari un po' meno relazioni tossiche in passato che non riesco veramente mai veramente a essere felice non so spiegarci ma lo sai perché perché tu le hai costruite quelle cose e quello che hai preso che era di tuo padre l'hai ricostruito quindi per te quella fatica lì ha un valore gigante e non la riesci a debellare soltanto con un numero esatto e devi staccarti da quella roba lì quando una persona ti lascia o tu lasci qualcun altro se la vivi nel cuore ti fa delirare quella roba lì è la mente che deve governare lo so che puoi essere privo di sentimenti è terribile ma pensaci dopo quando sei pulito allora rifai a ritroso tutto un viaggio in quella roba ma se la vivi in quel momento a livello emotivo ti dà un pugno nelle costole ogni giorno e non riesci a essere lucido devi staccare l'emotivo quando poi guardi il film dopo capisci tante cose hai visto un altro film bravo io sai che mi sono messo contro anche i miei parenti per alcune relazioni in passato dove magari la mia famiglia non approvava determinate persone eppure io ero disposto a combattere per i miei principi non vedendo quello che loro vedevano che oggi anch'io vedo ma non vedevo per me era assurdo difendevo a spada tratta questa persona o comunque questa mia scelta di vita però come tu dici giustamente a volte solo il tempo e comunque la lucidità mentale ti può far capire gli errori del passato prima dell'ultima domanda un aneddoto di un pretese incredibile di un artista allora aneddoti ce ne sarebbero parecchi da raccontare il più abissale il più abissale allora Steve Occhi appunto l'artista che parlavo prima quando arrivò al number che tra l'altro come abbiamo accennato fu la prima vera star mondiale che arrivò oltre i 70.000 euro che già erano inconcepibili per la mente di mio padre allegò a questo contratto una serie di richieste lunghissima 200 punti di richiesta poi dico mamma mia e tra l'altro una clausola rossa dove diceva che in caso di mancato rispetto di ogni singola clausola il manager dell'artista si poteva riservare di chiedere alla struttura fino a 1000 dollari appunto non rispettato sono 200 punti insomma erano un po' erano importanti da rispettare poi c'era un rider per le torte perché sappiamo che Steve Occhi a fine show lui prende 10 torte con la sua faccia e le lancia sul pubblico e la gente è impazziva per ricevere questa torta quindi ti manda un rider cake rider dove ti specifica tutto quello che va fatto per creare queste torte con un video in allegato che tu un tutorial devi girare al tuo pasticcere ma come se non bastasse ti manda un quiz ok cake quiz dove ti mette il sudoku le domande tra bocchetto dove devi rispondere per fargli capire se hai capito che è tutto chiaro per te esatto vabbè quindi nei vari punti poi c'era ovviamente le classiche cose standard che tutti vogliono quindi l'albergo 5 stelle 7 suite all'alberetta che mi costarono 7-8 mila euro perché è mila euro la camera che non utilizzò perché arrivò alle 4 di pomeriggio lasciò la valigia in camera si si fece una doccia sound check quindi viene a provare suona finisce prende la valigia aereo al penso e vola via quindi la camera i letti non sono mai stati disfatti per 10 mila euro in camera ha voluto un iphone nuovo delle air force nuove 5 paia di mutande di kelvin clay colorate tipo scala cromatica rosse, verde, gialle così un'acqua di un certo grado di perché lui è molto attento a queste cose quindi lo yoga al balance si al balance quindi barrette di etiche di una certa marca giapponese quell'acqua lì che mi costò dall'America 15-20 dollari a bottiglia che hanno preso due casse cose assurde dentifricio di una certa marca cose che dici ma dai l'iphone le scarpe cioè non ero abituato a queste cose e niente quindi queste sono un po' le richieste folle di Stivoki poi parlando di altri artisti abbastanza problematici anche Dimitri Vegas Like Mike loro volevano la playstation con un videogioco particolare insomma tutte cose che uscivano molto dal nostro mondo della musica per me sei un artista mi dici quanto vuoi ti faccio trovare ovviamente l'albergo e il taxi ma questi erano proprio dei vizi cioè che mi sembravano assurdi concludo con l'ultima domanda hai paura della morte? bella domanda questa guarda ho sempre avuto paura sì della morte ti dico la verità ma penso che questo sia ovviamente un must per tutti gli umani però ho sempre vissuto più che per me per le persone a cui ero legato come ti ho detto prima per me la mia fonte più di paura di ansia era la morte di mio padre non la mia io non ho mai pensato alla mia morte ho sempre ripensato e rivissuto la morte sua quindi quando è venuto a mancare non dico che ero preparato ma quasi veramente lo ero il mio terrore sai qual è? più che la morte in sé la mia anima il mio corpo la mia paura è quella di non riuscire a creare una famiglia un qualcosa che possa anche portare avanti una tradizione di famiglia o un qualcosa cioè io vorrei sai avendo vissuto il padre così anziano la mia priorità era quella di fare una famiglia presto quando poi mi sono trovato invece a combattere in queste relazioni tossiche dove io ero pronto a tra virgolette a casarmi e fare famiglia non è potuto accadere per via di molteplici motivi quindi mi si è un po' sgretolata questa mia diciamo visione sai tante volte ci si programma delle cose che poi non sono mai quelle quindi la mia paura oggi è ho 30 anni ma veramente voglio una famiglia sto bene da solo la fidanzata che ho giustamente sarà quella giusta per sempre boh quindi ecco la mia paura più che la morte è riuscire a fare un qualcosa di concreto al di là dei soldi che poi te ne fai poco quando ti viene un tumore cosa te ne fai mio papà poteva averti soldi nel mondo eppure è morto come tantissimi imprenditori famosi eccetera quindi ecco la mia priorità Luca è quella di creare un qualcosa che possa portare avanti dopo di me le mie gesta diciamo ecco come io sto facendo spero per mio padre ci parli ogni tanto con lui gli chiedi dei consigli lo pensi o non hai voglia di entrare in questa fase emotiva da quando lui è venuto a mancare guarda mia mamma interpreta la sua morte in un modo io totalmente in un modo opposto nonostante la sofferenza sia la stessa lei è molto più sulla fase depressiva quindi piange tutti i giorni va tutti i giorni al cimitero io da quando è morto non sono andato una volta al cimitero ma perché io è quasi come se non volessi mettermi davanti alla realtà io lo sento ancora in parte a me quindi tu mi hai chiesto una domanda ci parli io spesso sono in macchina che sto andando anche al locale in parte non c'è nessuno eppure mi metto a fare dei discorsi come se lui fosse lì dico dai papà hai visto la serata sabato mi sento un po' stupido però siccome non c'è nessuno che mi guarda io ci parlo tante volte cerco anche di parlare con mia madre e dirle cavolo quante cose ha fatto nella sua vita le persone magari perdono il figlio un incidente in moto o magari un bambino che nasce e ha già il tumore a 7-8 anni quindi a mia mamma dico cavolo se ce la fanno queste persone ad andare avanti cerchiamo di reagire cioè comunque il ciclo della vita è questo e lei mi dice sì hai ragione se analizzo la situazione in modo oggettivo è la verità però a me mi manca quando una persona ti manca puoi essere razionale quanto vuoi ma lei ha fatto 37 anni a suo fianco e io non ci sono più cioè ci sono ma ho la mia strada quindi mia mamma si sente un po' diciamo persa no? quindi ecco per me è difficile questo perché mi crea un altro contrasto interiore da una parte vorrei starle vicino e rassicurarla dall'altra parte non riesco a farlo anzi quasi la combatto cioè litigo anziché dare il conforto per farla reagire penso che tu lo faccio è difficilissimo faccio l'opposto di quello che vorrei fare a volte ecco la vita ti può mettere nelle condizioni di agire diversamente da domani mattina sì nel senso che magari magari quell'abbraccio che ti infastidisce che lei ti dà potresti farlo tu nei suoi confronti e le daresti dieci anni di vita non lo so è vero a volte hai paura di mostrarti quasi come se fossi un debole senti vergogna nella cosa più bella e più pura dell'universo magari conosci una ragazza da due settimane e dici ti amo per dire no come può essere possibile che la tua mamma c'è di mia spontanea volontà glielo ho mai detto glielo scrivo magari qualche volta però sai il messaggio è facile guardarla negli occhi e dici mamma ti voglio bene grazie di tutto se non sei allenato imbarazzante per me lo è stato tanto ma quando lo fai poi è incredibile ci proverò incredibile ti consiglio una puntata Nicoletta Amato una vita giocata faccio una puntata con mia madre e svelo dopo un'ora che è mia madre e lì è esattamente quello di cui parliamo lì è proprio l'amore che ha guidato la conversazione fino in fondo ed è stato veramente bello quindi spero che sarà uno strumento per te grazie mille Luca grazie davvero